Bossoni Half Marathon è la mezza maratona di Orzi Nuovi che fa parte del Bossoni Trophy, quindi del circuito delle quattro gare che la nostra azienda sostiene ormai da anni ed è la maratona di casa, siamo nati a Orzi Nuovi come azienda è la prima maratona che abbiamo sponsorizzato ed è quella che ci portiamo avanti e nel cuore da anni ormai da dieci anni, ufficialmente anche se sarebbero undici, ma dalle classifiche FIDAL ne risultano solamente dieci è la maratona di casa, come dicevo, è la maratona dei nostri territori ed è il nostro modo per stare vicini ai territori da cui siamo nati, da cui veniamo e su cui vogliamo essere sempre presenti abbiamo deciso da anni ormai di dare il nome alla mezza maratona l'abbiamo fatto anche su Brescia, quindi la BAM Brescia Art Marathon by Gruppo Bossoni che si correrà domenica quindi diciamo che oltre a sponsorizzare ci teniamo a dare il nome e ad attivarci in prima persona sia con l'attività di sponsorizzazione ma anche a correre in prima persona con noi e i nostri colleghi sta per ripartire la decima edizione della Bossoni Half Marathon domenica 26 marzo la piazza di Orzi Nuovi sarà il teatro principale della decima edizione quest'anno è il terzo anno consecutivo che la manifestazione si svolgerà nella nostra bellissima piazza a Piazza Vittorio Emanuele che è il centro e il cuore di Orzi Nuovi siamo felicissimi perché i due anni precedenti ci hanno sempre dato soddisfazioni in particolare il 2021 è stato il ritorno alla vita dopo il Covid è stato un momento molto emozionante il gruppo Bissoni con il gruppo sportivo Croceverde sono l'anima di questo evento come amministrazione noi facciamo tutto il possibile ma in realtà il grande lavoro è loro ringrazio tantissimo il gruppo Bissoni non solo per questa manifestazione ma anche per l'aiuto che ci dà sempre in tutti gli eventi che organizziamo anche aiuto economico e ringrazio il gruppo sportivo Croceverde nella persona di Andrea che mettono veramente tanto 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 impegno gratuito perché questo evento si manifesti l'amministrazione comunale comunque la giunta è felicissima di questo di questo evento il sindaco in primo piano è sempre presente io spero che anche quest'anno come gli anni scorsi sia super gettonata perché diventa proprio il centro sportivo della provincia di Brescia per quella giornata è per noi l'evento la maratona di Orzinuovi vi ringrazio e spero che vienete a Orzinuovi un percorso molto particolare che si sviluppa su due anelli ben distinti che tengono al centro della scena Orzinuovi e la sua piazza il percorso partirà dal centro di Orzinuovi da piazza Vittorio Emanuele alle 9 partirà la 10 km e alle 9.20 la 21 si svolgerà su due anelli distinti che arriveranno in piazza Vittorio Emanuele al decimo chilometro quindi al giro di Boa dopodiché la 10 km si fermerà e sarà arrivata la 21 invece proseguirà sul secondo anello per poi ritornare in piazza e qui avere anche l'arrivo